Finito il SAIE ricomincerà un altro SAIE, lavoreremo da quel momento insieme alla piattaforma costruzioni perché queste domande fondamentali che sono legate agli argomenti e alle anime del forum proseguono. Non dobbiamo fermarci, anzi questo è un punto di partenza. Queste domande riguardano i nuovi modelli costruttivi, quello che vedete qui dietro, processi di l'ibridazione tecnologica efficiente, a basso costo, con elementi qualitativi importanti, ma ci sono anche domande che riguardano le regole, il cambiamento di regole nel mondo delle professioni, nelle normative, nei processi anche di fiscalità dei territori. Sono convinto che le moderne politiche urbane debbano basarsi sulla integrazione fra gli strumenti urbanistici e gli strumenti di carattere fiscale. Questo tipo di integrazione fra strumentazioni che tradizionalmente sono state separate nel nostro paese è quanto mai essenziale oggi che si tratta di agire sul contrasto al consumo di suolo e sull'incentivazione della riqualificazione urbana. Grazie per la visione!